Per favore, per favore, allargiamo. Sono orgogliosa che nel mio paese si ricordi tutti gli anni la cacciata dei nazi fascisti grazie alla coraggiosa lotta di partigiani e partigiane. Dalla mia cella ardentemente desidero che il mio paese si mostri tutti i giorni all'altezza della propria storia. Che oggi, come in passato, voglia opporsi all'ingiustizia nel mondo e schierarsi dalla parte giusta della storia. Buon 25 aprile, Ilaria Salis. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.